No, ma è stata una settimana come tutte le altre, nel senso che la nostra testa, la nostra concentrazione non poteva che farci pensare al campo, anche perché veniamo da una partita in cui è vero che eravamo in gravissima emergenza, ma è vero anche che i gol ce li siamo fatti anche un po' da soli e quindi su quelli dovevamo migliorare. E quindi i nostri sforzi erano più orientati al miglioramento della squadra piuttosto che alle note vicende che ormai conoscete tutti. E' venuto a parlare il presidente Iachini perché era giusto che fosse così, ha tranquillizzato tutti quanti noi e tutto il gruppo squadra una volta che era stato firmato il preliminare. E poi ieri abbiamo conosciuto il nuovo presidente, la nuova proprietà, i nuovi direttori e ci siamo fatti il primo approccio. Però detto questo, poi la mia professione, le mie responsabilità sono quelle del campo e non potevo io insieme al mio staff e ai calciatori stare orientato a quello che succedeva fuori. Non sono cose che appartengano a noi, non sono cose di nostra competenza e responsabilità. Noi abbiamo l'obbligo di pensare al campo, se no rischeremo di sbagliare in quello che è la nostra professione. E' una partita estremamente difficile. Conosco molto bene l'allenatore, conosco molto bene l'ambiente del Montevarchi, conosco molto bene tantissimi calciatori che hanno a disposizione. E so che domani, se dovessimo sbagliare l'atteggiamento, è una partita dove rischieremo di fare una brutta figura. Noi dobbiamo portare dentro il campo intanto tutti gli errori che abbiamo commesso con il Cesena. Perché dobbiamo dimostrare in primis a noi stessi che è stato un passaggio a vuoto, degli errori che ci possono stare, viste le tante difficoltà che avevamo. Ma dobbiamo anche far capire a tutti che gli errori sono stati metabolizzati. Quindi intanto non dobbiamo commettere l'errore di sbagliare l'atteggiamento. Troviamo una squadra che è iperaggressiva, una squadra che sa stare nei duelli, una squadra che ha giocatori interessantissimi per uno contro uno, per attacco agli spazi, per fisicità. Possono essere estremamente pericolosi sulle palle inattive. Non dimentichiamo mai che magari ora le ultime partite sono venute fuori dei risultati negativi, però è vero anche che io ho visto tutte le partite. È vero anche che sono risultati che potevano essere anche diversi, perché hanno avuto sempre occasioni per fare gol. È rientrato Birlicea, è rientrato Rosso. Rossetti ha svolto tutta la settimana con la squadra. È ancora da valutare a Rigoni. Oggi ha svolto allenamento differenziato, non accusa dolori, però bisogna andarci con la dovuta cautela, perché è chiaro che non possiamo rischiare di perdere il capitano, perché è per noi pedina importante. E partirà col gruppo, ma non è detto che poi scenderà in campo. Questo dipenderà dalle sue sensazioni, dall'ultimo giorno, anche perché dobbiamo tenere in considerazione il fatto che giocheremo tre partite in una settimana, perché mercoledì avremo la partita di Coppa Italia. Quindi, visto che siamo verso la risoluzione di tanti problemi che abbiamo avuto nell'ultima settimana, non voglio assolutamente avere nessun tipo di recidiva. Grazie. Grazie.